Un nuovo viaggio ci attende per andare a scoprire nuove peculiarità del nostro variegato e ricco territorio italiano. Oggi siamo a Sambuco in Alta Vallestura. La storia di queste terre è strettamente legata alla pastorizia che nei secoli è stata la ricchezza di tutta l'Alta Vallestura. Le borgate nascono su queste basi e si sviluppano nei secoli portando la popolazione di Sambuco a toccare i 1400 abitanti e i pascoli ancora oggi sono altamente sfruttati con la presenza nel periodo estivo di circa 1500 capi bovini e oltre 1000 ovini. Negli alti pascoli ci sono ancora le tipiche costruzioni in pietra convolta a botte ricoperte interamente di terra chiamate l'astrunas alle quali spesso veniva sovrapposta una grangia adibita a stalla e fienile e che era usata come abitazione stagionale dai pastori di un tempo. Attualmente sono ancora pochi i pastori in valle ma non sono del tutto scomparsi. Marta e Luca ne sono un esempio. Con grande passione e dedizione allevano capre e meticce e trasformano il loro latte in formaggi. Hanno impostato la loro impresa puntando oltre che sulla qualità dei prodotti anche sulla comunicazione e sul commercio etico e proprio dalla voce di Luca vogliamo sentirci raccontare la storia di questa attività. Luca quando nasce la tua azienda e come è strutturata e soprattutto quali sono le problematiche che incontrate nel portare avanti questa attività in una zona di montagna? Cinque anni fa ho deciso di intraprendere questa carriera di allevatore affiancando mia moglie nell'allevamento che lei già gestiva di capre. Noi ci occupiamo di un centinaio di capre, di razza meticcia, il ceppo principale delle nostrali di queste alpi, di queste vallate. Mungiamo e trasformiamo il formaggio in azienda, trasformiamo il latte in azienda creando tutta una vasta gamma di formaggi che poi vendiamo direttamente o nel punto vendita aziendale oppure su alcuni mercati di paese, soprattutto due qua in valle, a De Monte, a Vinadio e alcune fiere di grande richiamo di pubblico. In cinque anni ci siamo fatti un po' di esperienza su come si allevano le capre, su quali sono le problematiche, quali sono i vantaggi di questo animale e sicuramente stare a Sambuco tutto l'anno è bello, dà delle gratificazioni in molti momenti dell'anno, in alcune fasi lavorative, però implica molti problemi legati in buona parte agli animali selvatici che popolano il territorio del comune. Noi a Sambuco siamo una novantina di persone che vivono stanzialmente tutto l'anno in paese e dobbiamo condividere il territorio con circa 300 cervi, con non sappiamo bene quanti cinghiali, caprioli, lupi, c'è un branco di lupi che comunque utilizza il territorio di Sambuco come terreno di caccia, per cui noi dobbiamo prendere delle contromisure o subire senza poter fare niente i danni arrecati da questi animali. Per quanto riguarda i carnivori, quindi i lupi e le volpi, principalmente la misura più grossa è quella di pascolare sempre le bestie senza lasciarle mai da sole, avere dei cani da difesa, nel nostro caso dei cani di razza pattù, montagna dei Pirenei, che fanno il loro lavoro di difendere il gregio dagli animali come i lupi, come le volpi, marcando il territorio, girando, facendo sempre la guardia al gregio, durante le ore di pascolo e appunto per noi è un impegno di 8, 10, 11 ore al massimo nel picco dell'estate quando le giornate sono molto lunghe, comunque uno dei due deve dedicare tutta la giornata a stare insieme alle bestie. Poi noi non abbiamo mai avuto problemi con i rapaci, con altri volatili, anche se so di altri allevatori che hanno problemi con i corvi per dire che vanno ad attaccare gli agnelli, e gli creano dei danni, a noi fortunatamente non è mai successo. Per quanto riguarda invece gli erbivori, è una gara, è un gran premio a chi arriva prima sulle risorse praticamente, però purtroppo i selvatici sono molto avvantaggiati, nel senso che essendo liberi pascolano tutto l'anno, da quando ci sono i primi germogli a quando appunto comincia a nevicare. No, invece a marzo per esempio non c'è ancora abbastanza erba per poter pascolare tutto il gregio, quindi le teniamo ancora dentro in stalla. Quando poi a maggio riusciamo finalmente a portare, a condurre le capre al pascolo, in molti posti quello che pascoliamo non è il primo caccio dell'erba primaverile, ma in realtà è già stato pascolato da cervi, caprioli e quanti altri, e noi mangiamo la seconda buttata vegetativa. E comunque è un danno, perché non puoi mai fare affidamento sulle risorse che poi realmente il territorio ti potrà offrire fino a giugno, quando ormai è talmente nel vivo la stagione vegetativa, che a quel punto ce n'è ovunque da mangiare, quindi l'impatto degli animali selvatici sul foraggio è inferiore. Però sicuramente dà dei problemi anche poi sulla fienagione, in quanto spesso capita che il fieno di primo taglio in realtà o è povero, perché i cervi hanno già pascolato tutti i fiori, le bacche, i semi dell'erba, oppure è già un secondo taglio perché hanno proprio rasato a zero il prato e quello che tu vai a falciare è in realtà la ricrescita dell'erba. Poi i cinghiali sono un altro problema perché comunque in molti prati la loro opera di devastazione ti impedisce di sfruttare dei pascoli per diversi anni, perché prima che la cotica erbosa si riformi, dopo che è stata rivoltata dai cinghiali, passa diverso tempo, per cui interi prati vengono abbandonati, non vengono più sfalciati, non si possono nemmeno più pascolare perché tutto è rivoltato dai cinghiali. Poi altri problemi sono legati alle parassitosi interne, in quanto gli animali selvatici fanno da vettori per molti parassiti, che poi possono anche prendere le capre, le pecore, le mucche e quindi anche lì per noi è un costo perché quando la bestia è piena di parassiti comunque è meno produttiva, non sta bene, hai più problemi e quindi bisogna fare dei trattamenti antiparassitari per garantirsi comunque delle bestie sane e più produttive. Un lavoro di certo non facile è il vostro, ma per te è stata una scelta voluta e consapevole, tu arrivi da tutt'altra attività. Io prima di fare questo lavoro mi occupavo di... lavoravo in un altro settore, completamente diverso, ho studiato fotografia in Università del Galles e realizzando un progetto universitario sono venuto a conoscenza del ritorno dei lupi, è una storia che mi ha affascinato molto e ho deciso di realizzare un reportage fotografico su questo argomento. In questo modo io ho conosciuto mia moglie, ma che ci siamo innamorati, però oltre a mia moglie mi ha fatto conoscere un mondo che mi è piaciuto fin da subito e mi è piaciuto uno per la dimensione ancora un po' arcaica, un po' idillica, perché comunque abbiamo sì grandi numeri di animali, però qua non si trovano allevamenti intensivi, sono estensivi, si sfrutta molto il territorio, quindi c'è un po' la dimensione idillica del pastore sui pascoli. Ovviamente ci sono mille problemi, però di sicuro non è dare insilato a delle vacche in pianura, il lavoro che facciamo qua. Però la cosa che mi interessava di più e che mi affascinava tantissimo era il contrasto che c'è nelle vallate alpine tra la natura e l'uomo, una guerra, uno scontro tra due entità che cercano di controllare il territorio ognuna a modo loro, che va avanti da secoli, con momenti alterni, ci sono state fasi in cui gli animali selvatici erano quasi estinti e l'uomo aveva il predominio sulle montagne, altri in cui invece l'uomo sta scomparendo e gli animali selvatici sono ovunque, si riproducono tantissimo come adesso. e quindi mi affascinava questo territorio di confine, diciamo così. Davvero affascinante come ci si possa innamorare anche di un'attività e si possa lasciare tutto per dedicarsi a questa. Ma Luca e Marta non sono sicuramente gli unici esempi di pastori appassionati del loro lavoro. Stiamo infatti per incontrare un altro pastore e per questo ci siamo spostati in Alto Piemonte e più precisamente nella provincia del VCO in Val Formazza, presso le cascate del Toce ed è anche la cascata più alta d'Europa, pensate. E qui andiamo ad incontrare un allevatore di pascolo vagante con una lunga tradizione familiare dedita alla pastorizia, Ernestino. Da piccolo avevamo delle bestie in montagna, poi ho fatto dieci anni a fare in fabbrica e dopo dieci anni ho iniziato a fare il pastore. Il mio lavoro è stare con le pecore, c'è da guardare, c'è da fare, c'è da codirle, da fare un po' tutti i lavori. Come si sviluppa una giornata in alpeggio? Ti alzi a conto, in momenti, ti alzi alla mattina, secondo i periodi, ti alzi magari alla mattina alle 7, alle 6, alle 8, guardi le pecore, devi guardare... Poi ci sono momenti che ti alzi anche le 2 di notte o non dormi neanche di notte, perché ti devi fare i spostamenti. E poi vai a vedere le tue bestie, come stanno, devi curarle, devi curare, devi guardare la pecora a zoppa, devi allattare il piccolo, c'è del lavoro, adesso non so io spiegarti, però c'è tutto del lavoro da fare, perché in tante bestie così c'è sempre la pecora che non sta bene, che la devi guardare. Abbiamo detto che il tuo è un pascolo vagante, durante l'anno dove porti gli animali a pascolare? Facciamo tre mesi qua in Val Formazza e gli altri mesi li facciamo per la pianura. Dalle cascate facciamo Domodossola, poi andiamo giù a Borgomanero, Novara, Mortara, Pavia e poi ritorniamo. Facciamo tutti i paesi un po' salendo. Ma Ernestino, toglici una curiosità. Nel tempo libero che cosa fate voi? Il tempo libero non ce n'hai, se vuoi lavorare. Dopo qualche volta te lo prendi. Cosa fai? C'è sempre da fare altro, magari nel tempo libero fare le commissioni. Molto importante è il lavoro che voi pastori fate, non solo per il vostro gregge, ma anche per la conservazione dei territori e per evitare il degrado della montagna. Con il bestiame, se te lo pascoli non vai in abbandono. Certo che se lo lasci un anno o due, senza essere soppascolato comincia a diventare cespugli e il territorio va, di essere appascolato con gli animali. Quali sono le difficoltà e i pericoli del pascolo vagante? Le difficoltà ce ne sono sempre, perché te viaggi sulle strade, c'è sempre dei pericoli, le macchine viaggiando in pianura. E solo qua abbiamo questa difficoltà del lupo. Ci sono i temporali, i fulmini, ci sono sassi che ti possono scendere. Come un anno sopra qua, è sceso una frana, ha mattato 30 pecore. È sempre un pericolo. Un anno di là, il fulmine, 50 pecore fulminate. Pericoli non solo per gli animali, ma anche per voi, che tra questi pascoli trascorrete la vostra vita. Ma esattamente, voi dove vivete? Ma in pianura viviamo sempre sulla roulotte. Facciamo un mese, un mese e mezzo, un baita dove c'è. Se no, sempre sulla roulotte. Renza è la compagna che condivide con Ernestino la dura vita dei pascoli vaganti. Vogliamo sentire anche dal suo punto di vista di donna come è questa vita dedicata al pascolo e soprattutto vissuta tra le montagne. Renza, Ernestino ci ha appena detto che voi vivete in una roulotte. Sì, noi qua, insomma, se si vive su una roulotte, c'è da contentarsi, c'è da capire che non è una casa. Per noi è la casa. Però, insomma, tante comodità ci mancano. Ad esempio, lavare, la lavatrice, che io ho un po' problemi adesso con le mani, le spalle, insomma, la schiena, ho diversi problemi. Si fa fatica, devo lavare per terra. diventa un po' pesante. Per la televisione, no, non me ne frega. E, l'altro, la luce, mi accontento con queste lampade le cinesi. O le candele, a volte resti senza, o quelle a gas, secondo, insomma. Certo, certo, quando vai a casa e accendi la tua luce, ti sembra una cosa neanche più normale per noi, però, se sta bene, insomma, nelle tue comodità. Però, anche qua, dico, sai, con gli anni ti abitui e non ne fai più un problema. Diventa una cosa normale. Renza, chiedo anche a te di raccontarci la tua quotidianità. Come si svolge la tua giornata? Mi alzo anch'io, secondo le volte, alle sei, alle sette, alle tre di notte, quando dobbiamo partire, che si cammina di notte, ti alzi presto, perché vado a guidare il trailer e allora devo alzare il pesto. A volte, come adesso, un po' più tranquillo, siamo qua fermi e allora magari fino alle sette si dorme. Poi mi alzo, niente, faccio colazione e adesso devo accudire questi animali qua che sono qua malati, perché non ho potuto portarli su e allora devo medicarli, devo dargli il latte all'agnello, così, cagnolini, le galline, c'è un po' di tutto, insomma. Poi lavoro le scodelle, la colazione, così faccio due lavori, insomma, come si fa a casa, faccio il letto, quelle cose lì, pulisco, perché la roulotte sembra piccola, ma è sempre sporca, anche quella c'è da pulire. E poi niente, se non devo salire all'Alpe, vado a fare spesa, commissioni, che mi dà magari l'arnesto da fare, insomma, magari scendo a doma a fare la spesa per gli uomini, un po' di tutto, insomma. e invece quando si sale, faccio colazione, poi va, si prende il zaino a spalla e si va, il mio cane, e vado su, come l'altro giorno, sono arrivata su e lui era già andato avanti col cavallo, aveva già portato su la spesa, tutto, aveva già portato su la pentola con la carne pronta, e io sono arrivata su, ho acceso la stufa, ho fatto polenta, e poi niente, sono arrivati degli amici e abbiamo mangiato assieme. Poi verso le quattro sono scesa, sono andata a vedere un po' gli animali lì, le mie capre, che era qualche giorno che non le vedevo, poi sono scesa perché c'era il lavoro da fare qua, e così, secondo le giornate, a volte è molto movimentata, a volte se sei qui sei un po' più tranquillo. Qua, quando siamo giù invece è un po' più problematica perché magari ti devi spostare due o tre volte in un giorno e quindi devi caricare tutti i bidoni dell'acqua, tutta la roba, poi arrivi, magari mangi, poi dopo mezz'oretta c'è anche il carguma che doveva spostare la roba e allora su tutto ancora sposti, poi magari non trovi il posto adatto per dormire e devi rispostare, e allora lì diventa un po' più pesante quando sei giù perché sei sempre in movimento, capita poco, specialmente salendo, che trovi da fermarti due o tre giorni di fila, quando scendiamo no, in autunno scendi, magari ti fermi due o tre giorni in un posto, due o tre in un altro perché tagliano i mais, allora trovi da fermarti, ti danno magari i prati che non hanno tagliato, sai, c'è più spazio, invece salendo devi camminare perché c'è tutti i seminati, i prati devono fare il fieno e quindi devi cura, ecco. Salutiamo Ernestino e Renza e passiamo dal pascolo eroico alla viticoltura eroica. Andiamo a Santo Stefano Belbo, paese che nasce tra le colline delle Langhe del Monferrato e il suo territorio in gran parte collinare si sviluppa ai lati del fiume Belbo. Le sue radici si perdono attorno all'anno 1000 ma tracce precedenti ci portano ai Romani e in seguito ad identificare monaci benedettini come i primi introduttori della coltivazione della vite ai piedi della collina di Moncucco. Ancora oggi Beppe Scavino coltiva l'uva moscato su questa collina da cui nascono il moscato d'asti di OCG e l'asti spumante di OCG. È vero Beppe? Noi praticamente siamo sulla collina di Moncucco una delle più antiche colline dove si è praticamente impiantato già diciamo dal 1300 dove i frati che hanno fondato Santo Stefano Belbo hanno impiantato i primi vigneti e da allora di generazione in generazione siamo arrivati al 2016 con sto moscato comunque ancora in produzione con i suoi pro e contro nel senso che è un gran vitigno da un prodotto veramente eccezionale specialmente in questi posti però purtroppo abbiamo il problema dei costi di produzione altissimi perché siamo in vigne che possiamo chiamare eroiche dove comunque abbiamo delle pendenze superiore al 50% dove comunque di fatica ce ne vuole per arrivare a sto prodotto eccezionale. Un terreno difficile da lavorare ma che dà grandi soddisfazioni in bottiglia? Sì sicuramente se qui abbiamo un vitigno di moscato e non abbiamo altri vitigni è proprio perché il terreno promuove veramente in modo veramente buono la qualità di questo prodotto abbiamo dei terreni sabbiosi dove praticamente il moscato ci vive bene via diciamo così Questa alta qualità del vino è dovuta anche al sole oltre che alla terra? Sì qui abbiamo praticamente un'insolazione diciamo veramente alta i raggi del sole riescono a arrivare bene sia sul prodotto che sulla foglia quindi abbiamo una buona lavorazione degli zuccheri e purtroppo questo ci penalizza un po' dal lato quantitativo perché noi qui anche se il disciplinare parla normalmente di cento quintali ad ettaro noi qui non riusciamo mai a coprire la produzione del disciplinare perché vuoi la siccità vuoi le forti pendenze che comunque limitano anche un po' vuoi il poco terreno coltivabile praticamente qui sotto i 20 30 centimetri abbiamo già una roccia dove la vite fa molta fatica a penetrare con le radici quanti ettari vitati ha la vostra azienda e le viti impiantate quanti anni hanno all'incirca ma noi in azienda abbiamo delle vigne a partire da diciamo da 0 a 80 anni la nostra azienda ha all'incirca 15 ettari di di vigneto e abbiamo un po' tutte le varietà diciamo di anni di produzione sicuramente in annate come queste siccitose i vitigni vecchi sono quelli che comunque ci danno miglior qualità perché loro sono radicati mentre i vitigni nuovi stanno facendo fatica ad arrivare alla maturazione per mancanza di acqua i vostri vigneti si inerpicano sui cosiddetti sorii terreni in forte pendenza e con un'esposizione particolare al sole che risultano molto faticosi da coltivare come dicevamo appunto prima poiché la maggior parte del lavoro viene svolto manualmente senza poter contare sull'aiuto di macchinari facendo di questa appunto un'agricoltura eroica momento particolarmente impegnativo proprio per questa ragione immagino è la vendemmia è vero? Ecco noi comunque come azienda abbiamo anche fatto proprio veramente una nostra scelta agendale dove comunque durante la vendemmia si fa ancora una cernita in modo da portare il prodotto al massimo della qualità e ottimizzarlo in modo che arrivi in cantina che sia veramente che dia veramente il prodotto principe come è il nostro Moscato d'Asti conosciuto in tutto il mondo Da queste due vigne nascono abbiamo detto due diverse tipologie di vino giusto? Ecco allora da queste vigne a secondo della denuncia di produzione si può optare per un'Asti spumante si può produrre un'Asti spumante quello normalmente si diceva per i grandi eventi le grandi feste noi diciamo un'Asti spumante può essere bevuto in qualsiasi occasione anche solo con due amici si stappa questo qui si stappa con il botto come si dice normalmente e questo è una tipologia poi secondo la seconda tipologia è il Moscato d'Asti tappo raso ed è quello che praticamente come dice proprio la parola il tappo è a raso della bottiglia e questo è un vino un po' meno frizzante rispetto all'Asti spumante è un vino dove piccoli produttori riescono comunque a produrlo con meno problemi ed è il prodotto che in questo momento sta tirando di più nel mondo perché comunque è un trend positivo in crescita di vendite mentre l'Asti spumante ha avuto un piccolo calo di esportazione e questo vino diciamo il Moscato d'Asti tappo raso può essere bevuto in qualsiasi anzi deve essere bevuto in qualsiasi occasione fine pranzo con un aperitivo con qualsiasi momento via diciamo che dal punto di vista nostro è un prodotto che va bene in qualsiasi occasione dolce è un vino piacevole ed è un vino che può raggiungere secondo me ancora tanti mercati nel mondo e poi purtroppo abbiamo anche un mercato che non tutte le volte recepisce il discorso di altissima qualità che riusciamo a tirar fuori dalle nostre vigne abbiamo come dicevo prima dei costi altissimi di produzione delle fatiche enormi che non ci vengono molte volte riscontrate in quelle che sono le situazioni di mercato grazie a Beppe ai suoi vini e grazie a Luca Marta Ernestino e Renza per il loro duro lavoro di pastori che quotidianamente portano avanti con tanta dedizione e un grazie particolare va a tutti quelli che come loro ci consentono di ritrovare ogni giorno sulle nostre tavole sapori unici ed inimitabili ma che allo stesso tempo svolgono un'importantissima opera di tutela e salvaguardia dei territori regalandoci la possibilità di godere della bellezza dei paesaggi che la natura si ci offre ma che loro come uomini curano e conservano come sempre ringraziamo anche tutti voi che siete stati in nostra compagnia e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.agrisapori.it dove potrete rivedere i nostri servizi ma dove troverete anche tutti i contatti utili per comunicare con noi via mail facebook o twitter nel darvi appuntamento alla prossima puntata vi auguriamo giornate piene di gusto grazie a tutti